La crisi del governo Conte accelera precipitosamente in poche ore, da vedere se verso una soluzione o verso lo showdown finale. Scenario quest'ultimo certo se si arrivasse mercoledì al voto in Parlamento sulla relazione sullo Stato della Giustizia del ministro Alfonso Bonafede, perché i numeri non ci sono, neppure quelli risicati dalla fiducia di cinque giorni fa al Senato. Erano 156, 5 meno della maggioranza assoluta, ma non voteranno per Bonafede, bestia nera dei garantisti di ogni fronte, i senatori d'Italia viva nei volenterosi di mercoledì scorso, Sandra Lonardo, Riccardo Nencini, Rossi e Causina ex Forza Italia, ne casini e mancheranno i tre senatori a vita. Con Bonafede sarebbe travolto l'intero governo, il tema giustizia è dirimente, lo ha confermato Luigi Di Maio, il Movimento 5 Stelle non è donatore di sangue ma neppure di organi, lo stop alla prescrizione non si tocca, la giustizia o il giustizialismo, come molti ritengono, è tema fondante dei grillini. Allora il pressing del PD si fa più forte, ad opera dei ricucitori, Franceschini e Guerini. Per andare avanti si devono gettare ponti verso Italia viva e bisogna accelerare verso un conteter. Il presidente del Consiglio deve dimettersi prima di mercoledì. Se andasse sotto al Senato sarebbe finita, non ci sarebbe possibilità alcuna di un reincarico. La via indicata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiedeva numeri certi, una forza aggiuntiva in maggioranza e tempi veloci per uscire dall'incertezza, con pandemia, crisi economica e recovery plan sullo sfondo a dominare. Le dimissioni del Premier dunque come prologo a una crisi lampo pilotata per dare vita a un nuovo governo, un conteterco, un nuovo programma e nuova squadra. Il mantra mai più con Renzi o Conte o Morte o Conte o Voto, agitato dal segretario Nicola Zingaretti e dal numero due Andrea Orlando, si fa più flebile. Una sciagura alle elezioni anticipate e solo l'irresponsabilità di Renzi ad evocarle, con il salto nel buio dell'addio al governo 12 giorni fa. Conte si dimetta se vuole sopravvivere, in pochi giorni nuovi gruppi non arrivano, dice anche il tessitore dei volenterosi Bruno Tabacci. Le elezioni non esistono, fa ecco Pierferdinando Casini. Conte terra è l'ipotesi percorribile e si riapre al dialogo con i renziani. Stamattina esce allo scoperto di nuovo il Partito Democratico. Goffredo Bettini, consigliere di Zingaretti ma anche del Premier, indica un percorso. Conte prometta in aula al Senato di andare in Quirinale e lo faccia prima della relazione sulla giustizia di Bonafede mercoledì. Il guarda sigilli dia segnali di garantismo. Renzi ammetta l'errore e raccolga i segnali magari astenendosi sulla relazione. Conte è l'unico punto di ripartenza. Ma attenzione, dopo le accuse di sottomissione del PD ai 5 Stelle a Palazzo Chigi, Bettini dice, non siamo sulla linea Conte o morte. Zingaretti a seguire ripropone la necessità di un governo con base parlamentare ampia, europeista, con un programma autorevole, per affrontare Covid, campagna vaccinale e stagione investimenti. Conte è l'unico punto di equilibrio, ripete il leader Dem, ma sembra meno assertivo. Nel pomeriggio, all'improvviso, fonti della maggioranza, 5 Stelle, annunciano una prossima salita del presidente del Consiglio inquirinale. Non lo abbiamo chiesto noi, si tira fuori il PD. Sul colle attendono. Per ora nessuna richiesta fanno sapere se Conte andasse a dire di avere i numeri. Mattarella lo rinvierebbe in Parlamento. Se si dimette, si aprono le consultazioni, fossero anche come saranno l'ampo di poche ore, e tutto tornerebbe in gioco. PD, Leo e 5 Stelle confermerebbero l'indicazione di Giuseppe Conte per un rincarico. Marenzi cosa farà? Il gruppo dei valenterosi sarà pronto? Al centro si muovono varie pedine. Se Paola Binetti dice sì al Conte Ter, l'Udc, al cui gruppo appartiene, ribadisce no alla linea di Conte bis sulla giustizia, no alla fiducia già negata la scorsa settimana. Centristi come Quagliariello, altri tre voti al Senato, chiedono discontinuità. Forza Italia, a quanto pare, non perderà numeri importanti a favore di Conte. La maggioranza Ursula, gli azzurri sommati ai giallorossi, è un'ipotesi che potrebbe maturare. Ora, per Silvio Berlusconi, la strada maestra è una sola. Rimettere alla saggezza politica e all'autorevolezza istituzionale del Capo dello Stato di indicare la soluzione della crisi, attraverso un nuovo governo che rappresenti l'unità sostanziale del Paese, in un momento di emergenza, oppure restituire la parola agli italiani. In linea con Fratelli d'Italia di Giorgio Meloni, ma senza sbarrare ogni porta, Matteo Salvini evoca il voto, piuttosto che tirare a campare con governichi ammucchiate. Meglio ridare la parola agli italiani e poi stare tranquilli per cinque anni. Si riuniscono Vito Crimi con i ministri Cinque Stelle, si riuniscono i ministri PD con il segretario Zingaretti. A Palazzo Chigi, Giuseppe Conte riunisce i suoi per la decisione finale. Renzi tace, pronto a tornare in gioco. Domattina, è la conferma di poco fa, l'atto finale del Conte Bis, riunione del Consiglio dei Ministri e poi il Presidente del Consiglio salirà al Quirinale per dimettersi.